Gestione illecita di rifiuti nell'area Flegrea, eseguite quattro misure cautelari. Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano, a termine di un'indagine coordinata dalla distrezione direttuale antimafia di Napoli, ha eseguito tra le province di Napoli e Caserta quattro ordinanze di misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti, raccolti infatti gravi indizi di colpevolezza per traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, principalmente detriti e macerie provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo. A carico degli indagati, oltre al divieto di dimora nel comune di residenza, è stata disposta la misura interdittiva per la durata di dieci mesi del divieto di esercizio dell'attività di scarico o carico di rifiuti e di attività di impresa e di uffici direttivi in società operanti nel settore dei rifiuti. In particolare le fiamme gialle della tenenza di Baia hanno scoperto una struttura criminale familiare dedita alla raccolta, al trasporto e alla gestione di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione edile, coinvolto anche nello smaltimento illecito il gestore di un impianto per il trattamento di tale materiale di risulta. Sequestrate infine tre autocarri alla ditta edile di Pozzuori, Napoli e le quote societari all'azienda di Castelvolturno, Caserta, che gestisce l'impianto di trattamento rifiuti.